Una conferenza direi che è unica nel suo genere, convocata dalla Chiesa che è in Siria su suggerimento, su incoraggiamento del Cardinal Sandri, perfetto della Congregazione per le Chiese Orientali tre mesi fa e il tema di questa conferenza è carità e sinodalità. È quella Chiesa che deve mettere in moto ancora di più tutte le sue energie e assieme in spirito sinodale per l'esercizio del Ministero della Carità. Ci saranno oltre che alcuni membri di Casteri Romani anche la comunità internazionale cattolica, conferenze episcopali di vari paesi. Saranno invitati anche in un certo momento rappresentanti delle Nazioni Unite che lavorano lì perché la prima reazione spontanea è anche mia, come sfamare tutta questa gente, come trovare le medicine, come trovare le coperte, i vestiti adesso da andare in mano. E Chiesa in uscita come il buon samaritano, che cosa vede la Chiesa di Siria quando esce, quando esce? Vede la catastrofe umanitaria più grave dalla fine del dopoguerra, pensiamo al più di mezzo milione di morti, di feriti, poi pensiamo 90% della popolazione siriana, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, che vive sotto la soglia della povertà, che hanno fame, che hanno bisogno di essere anche riscaldati perché c'è un freddo adesso, sono appena partito dalla Siria e lì c'era la neve a temperature sotto lo zero, abbiamo delle tende di profughi che sono corollate due o tre settimane fa sotto il peso della neve, un bambino che è stato schiacciato sotto questa tenda caduta per la neve, dei bebè morti di freddo, ecco che cosa vede la Chiesa, 13 milioni di persone che sono in questa situazione e allora qui c'è bisogno, in tre giorni di riflessione sarà una Chiesa sinodale in Siria che vede come sviluppare meglio, come organizzare meglio la carità e anche farà ricorso anche agli organismi internazionali perché qui occorrono tonnellate di farina, occorrono tonnellate di riso, occorrono tonnellate di olio, ecco qui c'è bisogno anche di unire questi sforzi, nello stesso tempo la Chiesa che deve un po' dare anche questo senso, dire che è sul terreno e che vede, che deve incoraggiare o richiamare la comunità internazionale a fare ancora di più.